Le pagelle, le pagelle quelle belle, perché quando si vince sono belle pagelle, quando si perde sono meno belle, diciamo così, però di bello c'è stata la super prestazione della Juventus, a me è piaciuta tanto, a Mr. Tiago Motta è piaciuta leggermente meno, ne ha parlato anche in conferenza stampa, abbiamo analizzato questa cosa nel video di stamattina, però io ovviamente devo valutare secondo il mio gusto e per quanto mi riguarda la gestione del possesso a palla e avere sempre il pallone più degli avversari non è e non sarà mai una cosa principale per analizzare una partita, per me la Juve ha dominato in lungo e in largo il PSV anche se ha avuto meno il possesso della sfera, ma capisco il ragionamento di Tiago Motta ed è anzi quel ragionamento che ti permette anche nelle serate così di non abbassarti il livello di concentrazione e anzi continuare a rimanere lì orientato con il focus per andare a migliorarsi, quindi molto molto bene così. Juventus PSV 3 a 1 è storia ed è la prima in Champions League di questa stagione, è la prima in Champions League per Tiago Motta che secondo me si becca a 7 e mezzo in pagella, non so, sarei curioso di sapere che voto si dà lui perché il fatto di aver evidenziato questi difettucci secondo il suo punto di vista nel palleggio della Juventus che assolutamente si può migliorare, ci mancherebbe altro, sarebbe interessante sapere qual è la valutazione che si dà, per me è una valutazione alta perché ripeto la Juve a me è piaciuta e anche tanto e mi ha anche convinto la scelta di Tiago Motta inerente a McKennie, perché Tiago Motta è andato a confermare la stessa formazione, escluso il portiere ed escluso Douglas Lewis di Empoli, è semplicemente andato a darle un'identità diversa, la Juventus vista con l'Empoli e col PSV erano due squadre differenti, complice l'atteggiamento diverso di due squadre perché l'Empoli ha fatto un tipo di partita, il PSV ne ha fatto un'altra sicuramente, ma anche la Juve ha fatto una partita differente e a me è piaciuta molto e quindi Tiago Motta, 7 e mezzo. Di Gregorio, voto 6, è la prima volta che credo che da quando ho iniziato a fare pace a quest'anno vado a dare il voto al portiere della Juventus, credo davvero la prima, tutte le volte era senza voto, anche la prima volta che prendiamo gol, lo prendiamo a tempo scaduto, qualcuno ha detto che poteva far meglio di Gregorio, poteva far meglio un po' tutti per quanto mi riguarda Calulu, Danilo, però sposo la filosofia del mister e voglio dire, anch'io, voglio farmi prendere dal suo messaggio e la cosa che mi importa meno il gol subito, anche se non è così, perché io sono sempre molto affezionato al clean sheet, mi piace sempre chiudere con la porta inviolata, però per una prestazione del genere si può chiudere un occhio di fronte a un errore di concentrazione degli ultimi istanti di gara, non deve succedere quando le gare invece non sono ancora chiuse, quindi ci siamo tra virgolette giocati un jolly. Calulu, voto 7. Ieri sera ho guardato anche Milan-Liverpool e pensare che questi hanno dato via Calulu per prendere Emerson Royale mi fa dire soltanto grazie Milan, perché poi magari Calulu non sarà questo per tutta la stagione, ma anche a Empoli per me è stato uno dei migliori in campo e ieri sera ha fatto un partitore, poi non è un terzino di spinta, non è Dani Alves per intenderci, ma è un giocatore onestissimo, che fa il suo, il suo compito lo fa molto bene e sta anche avendo continuità fisica, che era l'unico grande dubbio che avevo su Calulu, perché a me è un giocatore che invece è sempre piaciuto tanto e quando è uscito il suo nome sul mercato ero veramente felice, perché quando lo dovevo giocare col Milan dicevo però mi piacerebbe avere Calulu la Juve, quindi speriamo che possa continuare così. Gatti voto 6.5, li faccio insieme, Gatti e Bremer, 6.5 e 6, perché questa è stata una partita in cui sì, il PSV ha avuto tanto possesso del pallone, sì, ha anche avuto delle possibilità di conclusione, mi ricordo una dalla distanza, una in cui il giocatore cica il pallone, lo lancia in curva, però sono sempre state tutte occasioni un po' così, fumantine. E quando gli attaccanti avversari fanno fatica perché in aria si trovano questi due demoni demogorgonici, significa che i difensori stanno lavorando molto molto bene, quindi bravi ragazzi, perché ormai Bremer Gatti è la premiata ditta della difesa, sperando che Gatti stia bene per quella distorsione della caviglia, perché ci servirà assolutamente il suo apporto contro il Napoli in questo fine settimana. Cambiaso voto 6, aveva un cliente difficile, Bakaio Kou mi pare si chiamasse, lì dalla sua parte, l'esterno destro del PSV, era l'esordio in Champions per Cambiaso, ricordiamocelo, sicuramente meno appariscente, non ha fatto la partita alla Cambiaso in cui fa l'assist, fa la giocata, è stata una partita molto solida, secondo me, di Cambiaso ed era necessario, perché in quella zona di campo c'era davvero un giocatore che mi è sembrato quello anche un po' più pericoloso che poteva accendere la luce per il PSV e alla fine Cambiaso è riuscito ad arginarlo molto bene. Locatelli, voto 7, giù il cappello per Manuel Locatelli. Questo è il concetto che per tutti questi anni di Locatelli e la Juventus ho cercato di passarvi. Io vi ho sempre detto, attenzione a valutare Locatelli negativamente, perché è vero che le stagioni non sono di alto livello, è vero che le partite non sono di alto livello, ma a Locatelli veniva chiesto esclusivamente sempre di essere il filtro davanti alla difesa e per la richiesta che veniva fatta a Locatelli, Locatelli la faceva al meglio, che non significa che abbia giocato bene, ma se quella è la richiesta che ti fa l'allenatore e tu quello fai, significa che tu lo stai facendo bene. A Locatelli non veniva chiesto nient'altro se non di difendere e basta. Locatelli ieri sera ha toccato anche tanti palloni, li ha smistati anche molto bene, un tocco, due tocchi, quando gioca nel corto Locatelli è un bel giocatore, il problema è quando inizia ad alzare il pallone, vuole fare il cambio di gioco, vuole andare a pescare sui piedi un attaccante in profondità, quello non lo sa fare, non è e forse non sarà mai, anzi secondo me non sarà mai quel giocatore. Però Locatelli è un giocatore che intanto è intelligente calcisticamente, perché Locatelli è intelligente calcisticamente, però ha bisogno dei giocatori intorno che si muovano negli spazi, che vadano a occupare gli spazi, e quando viene chiesto a Locatelli di fare questo tipo di partita, Locatelli la sa fare, stop. Poi non so se continuerà così tutto l'anno, per me Turam è più forte di Locatelli, e se devo immaginarmi il mediano titolare nella Juventus, non vedo Locatelli, al netto di queste prestazioni qui. Però attenzione a dire che Locatelli è un giocatore limitato, scarso, bidone, perché non è così, è sempre stata una richiesta che veniva fatta a Locatelli di difendere, e lui ha sempre difeso molto, molto bene, e ora che invece deve mettere un po' d'ordine, lo sta facendo molto, molto bene. Tra l'altro ha rischiato anche l'assist ieri sera, perché con Mainers che arriva in scivolata, quasi in scivolata, che poi si inginocchia con il sinistro la butta fuori, praticamente al limite dell'area piccola, è un cross di Locatelli, che se non è ha fatto un partitone, voto 7 in pagella. McKennie voto 7 e mezzo invece. Su McKennie avevo dei grandissimi dubbi, non solo perché era sul mercato, era praticamente ceduto, o era un giocatore che si stava andando via, quanto più perché nel gioco di Motta non pensavo potesse inserirsi così bene. Tant'è che, in questa foto lo vediamo, nell'unica presenza, prima di ieri sera, presenza con la Roma in campionato, quando era entrato mi era sembrato un po' un pesce fuori d'acqua, vado un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Invece, dal primo minuto ieri sera, ha fatto un partitone. Forse non ci rendiamo conto che due terzi del centrocampo, o se vogliamo addirittura, due su due, perché poi con Meners centrocampista per modo di dire, però Locatelli e McKennie erano giocatori che alla Juventus ci sono da almeno tre anni. E prestazioni così ordinate, a Locatelli non le avevamo mai visto fare, a McKennie invece sì, ha fatto molto bene anche l'anno scorso, però pensavo che all'interno di un contesto tattico così preciso, in cui si deve giocare molto sulla tecnica, e meno sul fisico, perché le Juve degli anni scorsi esaltavano i giocatori fisici, Locatelli è un giocatore fisico, e quindi quando doveva andare a difendere lo faceva bene, McKennie quando doveva andare a rincorrere lo faceva bene, ma quando si tratta invece di giocare il pallone su McKennie avevo dei grossi dubbi. Invece lui è cresciuto tanto anche da questo punto di vista, anche l'anno scorso, che era diventato un giocatore che forniva tanti assist e faceva pochi gol, ora è tornato anche a fare gol, e ha rischiato di fare anche la doppietta, uno se l'è mangiato, Weston mannaggia te buttala dentro, però una prestazione veramente di alto livello, e McKennie si becca a 7,5 in pagella. Illis vota 8 invece, stiamo crescendo 7, 7,5 a 8, poi non andiamo più su di così, perché per me Illis è il migliore in campo, l'MVP, io di Illis non voglio più parlarvi, perché ne ho già parlato abbastanza, mi emoziona, è un giocatore che semplicemente quando vedo toccare la palla mi dà delle vibrazioni super positive, il calcio per come l'ho iniziato ad amare io, davvero nei confronti di Alessandro Del Piero, ma anche dei giocatori rivali come Caccaio, quando vedevo quei giocatori lì, eleganti, tecnici, maestosi, andavo in brodo di giugiole, quindi quando vedo questi giocatori toccare la palla in quel modo lì, va di inestasi, va di inestasi, se poi mi fanno dei gol del genere, non posso fare altro che ringraziare, per avere un giocatore del genere nella mia squadra, che sa fare questo tipo di giocate, dargli 8 in pagella, dirgli che è l'MVP della partita, dirgli che è il miglior giocatore della Juventus, al suo esordio in Champions League, con la maglia numero 10 della Juventus, esordio in Champions League, ed esordio in Champions League con la maglia numero 10 della Juventus, perché non è solo la prima partita che gioca col 10 in Champions, è la prima partita, punto, e io di questo giocatore qua, avrò sempre buone parole dal punto di vista tecnico, perché gioca a calcio come piace a me, quindi non posso fare altro che essere grato alla Juve di aver creduto e investito su questo ragazzo, perché è veramente un ragazzo forte, ed è un ragazzo che spero che si possa vedere crescere al massimo dentro la nostra Juventus. Se è mezzo Cobb Mainers, sono andato un po' a riguardarmi anche gli highlights, in realtà Cobb Mainers ha fatto una partita in cui era spesso e volentieri presente, poi magari non salta all'occhio sotto il punto di vista del gol dell'asset, perché non l'ha ancora fornito, anche ieri sera non l'ha fornito, ha sbagliato un paio di gol, c'è stato quello un po' strano anche su un tocco di Vlaovic in area, dove la palla poi esce al lato del palo, c'è stato quello appunto sul traversone di Locatelli, quindi Cobb Mainers deve un po' fare la convergenza ai piedi in questo momento per trovare la porta, per trovare il feeling col gol, perché Cobb Mainers è uno da cui mi aspetto tanti gol, Vlaovic e Cobb Mainers sono i due giocatori che per me devono insegnare più gol e sono ancora molti indietro a tutti e due, più gol nel senso che alla fine dell'anno andiamo a scorrere i cannonieri della Juve, Vlaovic e Cobb Mainers per me devono essere i primi due, quindi siamo ancora molto molto indietro, però anche sul cucire il gioco, sull'essere presente, sull'entrare dentro ogni singola azione, Cobb Mainers c'era sempre, quindi la partita è da 6 e mezzo pura, poi ovviamente quando ci sono gol e assist la valutazione viene incrementata automaticamente, però Cobb Mainers ha fatto una buona partita. Ora però spero che possa sbloccarsi anche da altri punti di vista, perché abbiamo bisogno di Cobb Mainers anche per iniziare ad inserire nelle caselline gol e assist il nome di Teun. Nico González è 7 e mezzo, bravo Nico, bravo, bravo Nico, perché a Empoli per me era stato il peggiore in assoluto e voglio togliere il gol, perché non mi è piaciuto solo nel gol Nico González, anzi probabilmente il gol è la cosa che mi è piaciuta di meno, cioè mi è piaciuto molto di più per dire l'assist di Vlaovic che il gol di Nico, per farvi un esempio, ma Nico ha giocato una partita meravigliosa, meravigliosa, ed è un giocatore questo qua che ha bisogno di giocare queste partite, perché ho paura che Nico sia un giocatore un po' discontinuo, cioè forse mi dà questa impressione perché le volte che lo dovevo giocare a Fiorentina o faceva delle gran partite, o faceva delle partite sotto tono, o perché le prime due una molto brutta, una molto bella, e quindi vi dico, ok, il campione di due su due mi dice che questi due trend vanno ad invertirsi, invece io ho voglia che lui trovi continuità di rendimento, e soprattutto io voglio che Nico si diverta a giocare a calcio in questa Juve, perché i sudamericani sono dei giocatori che quando riescono a creare questo legame empatico con la squadra in cui giocano, sudamericani che giocano negli ultimi metri, sudamericani tecnici, giocatori solari come Nico, quando trovano l'empatia col sistema di gioco nel quale vengono inseriti, non li fermi, sono dei trattori, vanno, distruggono gli avversari, quindi abbiamo veramente bisogno che Nico trovi questo legame con la sua Juve, con Tiago Motta, e speriamo che possa farlo già da questo weekend col Napoli, perché abbiamo bisogno che trovi anche continuità in zona gol, non solo di prestazioni. Mi abbiamo iniziato a bere, esordio in Champions, un gol segnato. Vlaovic, voto 6 meno 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 periodico, per un motivo solo, anzi due, uno non voglio dare insufficienze in questa partita, perché mi sembrerebbe sbagliato, e anche brutto, perché la Juve ha fatta tutta una bella partita, tutta la Juve ha fatto una buona partita, e in seconda battuta perché Vlaovic, per me ha fatto un ottimo assist a Nico Gonzalez, non parlo dell'assist a McKennie, perché per me è quello involontario, o anche l'assist a McKennie, se sono tocchi di palla che non so quanto finalizzati siano alla ricerca del compagno, magari sì, ma questa è la mia impressione, avendogli visti in diretta e rivisti in seconda battuta, l'assist a Nico è di alto livello. Però l'impressione che ho, guardando giocare Vlaovic, è una e una sola, di un giocatore che in questo momento soffre. Non dovete venirmi a dire è però tecnicamente, la partita l'ha fatta brutta tecnicamente, tecnicamente Vlaovic è questo, era questo e sarà questo, non vi parlo di questa cosa qui. Però dal punto di vista dell'atteggiamento Vlaovic deve essere qualcosa in più, perché nelle partite in cui non fa gol, non deve cercarlo con insistenza, deve rimanere concentrato dentro la partita della Juventus, perché è solo tramite la partita della Juventus che arriverà il gol. Faccio un esempio, ieri gli passano una palla, non mi ricordo chi, forse Nico Gonzalez, lui la stoppa malissimo, al limite dell'area di rigore, malissimo, tant'è che la palla si alza, sembrava uno degli stop che faccio io negli amatori, la palla si alza, lui non è che la stoppa la mette bene, prova a rigiocare con i compagni, calcia, così come viene, e calcia anche abbastanza fuori dallo specchio della porta. Perché? Perché arrivati a quel punto della partita, la Juventus si stava divertendo, aveva segnato McKennie, Hildiz, Nico, e vuole segnare anche lui, perché l'attaccante ha bisogno di fare gol, ne ha necessità, lo sente dentro, è qualcosa che ce l'ha dentro. Arriva Dusan, non forzare, perché poi queste cose a te fanno malissimo, perché vieni inserito all'interno di questo vortice negativo di emozioni che ti va a peggiorare. Dusan, affidati alla Juve, affidati alla Juve, non ti chiedo di fare il lavoro associativo che faceva Zirze, non sei quel giocatore, non sei capace, non è questo. Allora libera lo spazio, vieni incontro, fai in modo che gli altri possano entrare, e quando ti arriva le palle giuste vai a finalizzare, e quando arrivano i piazzati vai a calciarli, perché sei ancora a tutti gli effetti rigorista, perché sei un giocatore che può battere le punizioni perché le hai sempre battute molto bene, però ora devi fare un passo indietro, un passo indietro dal punto di vista dell'importanza che pensi di avere in questa squadra, perché non sono tutti Cristiano Ronaldo che credendosi il migliore migliorano. Ci sono anche dei giocatori che hanno bisogno fortemente dei propri compagni, perché dal punto di vista tecnico non si ha quell'eccellenza che aveva Cristiano. Bisogna essere consapevoli di quelli che si è. E per me Dusan Vlaovic è un calciatore molto forte, ed è un attaccante che non scambierei neanche oggi con Lukaku, che oggi sento, eh Lukaku, guardate, alla fine, Lukaku è a Conte, Lukaku ha Conte, che imposta tutto il gioco su Lukaku. È il tipo di calciatore che serve a Conte, è il muro che serve a Conte, e Lukaku si affida totalmente a Conte, alle squadre di Conte, e viene fuori Lukaku. Vlaovic affidati totalmente a Motta e fai girare la squadra per Motta. E sono sicuro che a fine anno avrai il miglior bottino, il miglior scorre realizzativo da quando sei arrivato alla Juventus. È un consiglio da fratello maggiore che ti voglio dare, ma è l'unica cosa che veramente può svoltarti la stagione, la carriera, e rinfrescarti la testa. Perché lo vedo che sei imprigionato dentro i tuoi pensieri. È palese. Turan voto sei, subentrati lui, e Danilo ho poco da dire sui subentrati, perché quando entri poi in una partita che bene o male è già decisa, si fa un po' fatica. Fagioli voto sei, che è entrato come ala sinistra. Tiago Motta ha detto che non è stata un'esigenza, perché avevamo anche Bangula, poteva entrare lì, quindi è stata proprio una scelta di vederlo lì. UEA voto sei. Voglio soffermarmi solo su Douglas Lewis, un attimo, perché ieri sera live dicevo una cosa, che è una cosa comunque impattante, no? Importante. A me Douglas Lewis piace. Parto da qui. Come tipologia di giocatore mi piace. Perché mi sembra davvero uno di quei giocatori che con il pallone tra i piedi può fare quello che vuole. A volte però mi chiedo se le giocate che fa siano delle giocate logiche o comunque utili dentro la partita. Mi è venuta in mente quella famosa frase Zedan più bello che utile. No, Zedan era bello e utile. Su Douglas Lewis invece oggi sono bloccato qui. Cioè Douglas Lewis è più bello che utile? È appariscente o è anche utile al contesto Juve? Perché in queste prime 4-5 partite che ha fatto ufficialmente con la maglia della Juve non è che sia apparso il giocatore imprescindibile che senza di lui non si può. Anzi, tant'è che l'unica differenza nei giocatori di movimento di Empoli è fuori lui dentro McKennie. Tra l'altro McKennie che era il giocatore che si voleva utilizzare per arrivare a lui. Invece poi sono rimasti tutti e due e McKennie ieri sera gli ha soffiato il posto da titolare e ha meritato il posto da titolare ha fatto una prestazione decisamente migliore rispetto a quella di Douglas Lewis con l'Empoli quindi stiamo parlando anche comunque di valori di livelli diversi delle squadre. Non è una bocciatura per Douglas Lewis non può essere una bocciatura in 60 minuti che l'abbiamo visto giocare. Tiago Motta in questo momento lo tiene fuori probabilmente ha ragione perché è stato impresentabile con l'Empoli non so se dal punto di vista solo del palleggio della prestazione o anche proprio fisico queste sono cose che difficilmente riesce a percepire dalla televisione per oggi Douglas Lewis è un calciatore che non metterei nello schemino dei titolari nel disegnino degli undici perché non mi sembra un giocatore oggi importante per lo sviluppo e la crescita della Juventus lo sarà? Mi auguro di sì e credo di sì però devo dire la verità oggi Douglas Lewis sto ancora faticando a capire che tipo di giocatore sia fatemi sapere anche voi nei commenti la vostra opinione perché questa mi sembra la questione più importante di cui discutere ragazzi questa è stata una bella chiacchierata delle belle pagelle ancora la rima con cui abbiamo iniziato questo video mi è piaciuta questa gara sono stato contento e ora però la palla passa a voi e iniziamo a preparare anche la sfida al Napoli perché sta arrivando e non vedo l'ora perché è veramente un bel test importante in Serie A concludo off topic la Roma esonerato De Rossi scelta strana secondo me scelta per quanto mi riguarda incomprensibile per quanto la Roma sia partita male incomprensibile ora andiamo a vedere chi andrà a prendere perché se fai un taglio di questo tipo dopo quattro giornate di campionato hai già in mente l'allenatore che andrai a prendere successivamente i nomi che ci sono liberi non sono tantissimi quindi andiamo a vedere però a me sinceramente è sembrata una scelta folle folle sicuramente avranno già un piano pronto di riserve secondo me hanno già preso contatti con quello che sarà il prossimo allenatore della Roma ciao a tutti ragazzi e forza Juve